Ecco la nuova Alfa Romeo Giulia Veloce, allestimento sportivo, trazione integrale Q4 e sistemi tecnologici di alto livello. La vettura del Biscione è equipaggiata con motori brillanti e potenti da 180 a 280 CV ed è già ordinabile con prezzi a partire da 50.500 euro. Accanto all'esclusiva 500 Riva, Fiat propone la 124 Spider America, serie speciale limitata della sportiva del lingotto, realizzata in 124 esemplari e caratterizzata da livrea esterna bronzo-magnetico, specchietti color argento e interni in pelle tabacco. Jeep presenta invece la versione 2017 della sua Grand Cherokee, rinnovata nello stile con contenuti tecnologici e allestimenti ancora più raffinati e lussuosi. L'ammiraglia del marchio a stelle strisce è anche disponibile nelle varianti Trailhawk, più votata all'off-road, SRT, la più potente di tutte e Summit, con una dotazione di bordo avanzata in materiali premium.